in questa terza settimana di corso siamo passati da modelli più semplici a modelli più complessi abbiamo realizzato delle borse dove abbiamo dato del volume per trasformare questo questo impatto visivo qui in impatti visivi dove conta il volume abbiamo fatto costruzioni più semplici sempre con il volume fino ad arrivare a costruzioni più complesse sempre dando il volume alla borsa che possono essere concepite con questo tipo di criterio abbiamo affrontato un altro argomento che normalmente si usa in pelletteria che sono le cerniere in metallo ricoperte in pelle qui c'è solamente un provino dove anche in questo caso abbiamo sperimentato la forma piatta e come nelle altri tipi di tipologie di borse costruzione abbiamo sperimentato anche la versione con pens con di con volume fino ad arrivare a una costruzione abbastanza complessa nel suo genere perché è montata con una macchina particolare cucita una macchina particolare e naturalmente necessita di una costruzione della zip completamente in forma quindi questo è forse l'articolo più difficile da da realizzare in questo in questo frangente di corso in questa terza settimana